a Sardegna e questi giovani hanno iniziato davvero questo percorso per ridare un volto alla tradizione di Tiesi accompagnato attraverso le danze ma anche una rassegna che hanno organizzato e vissuto con successo poco tempo fa. Al timone dei suoni, un Guido Vercellino sempre prodigo di bravura e di talento è questo ballo degli amici di Tiesi, gruppo folk Seunis. Grazie. 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 Grazie.